E' morto all'età di 57 anni a causa di una breve malattia Bruno Rossetti, medaglia di bronzo nel tiro a volo ai giochi olimpici di Barcellona 1992 con la maglia della nazionale italiana. Tra gli altri titoli Rossetti vantava un bronzo ai mondiali, due medaglie d'oro nel 1991 e nel 1994, due d'argento nel 1983 e nel 1989 e un bronzo agli europei nel 1981. L'istruttore federale era presidente della S.D. Tiro a volo Pieve a Nievo le Montecatini. Nato in Francia e naturalizzato italiano abitava con la moglie a Ponte Bugianese. Lascia anche un figlio, Gabriele, tiratore e vincitore di una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, durante la quale il padre ha ricoperto il ruolo di allenatore della nazionale francese di tiro. La salma, dal pomeriggio di oggi, sarà composta nelle cappelle del commianto della misericordia di Pistoia, in via del Cambianco, dove rimarrà fino a domenica.